Questo è uno dei punti in cui c'è stata la manifestazione particolare perché essenzialmente la figura che è venuta da quel punto ha incontrato il gruppo di persone che erano qui in un sito vicino all'ingresso comunale e poi gli è scomparso praticamente attraversando in parte quest'arco scomparendo lì, proprio nell'arco, esattamente, esattamente e infatti in parte dei rilievi sono stati fatti qui la figura era più alta del normale nel senso che aveva un'altezza apparente oltre il metro e ottanta, quasi un metro e novanta era giovanile parlava un italiano perfetto ha chiesto informazioni, poi si è girato e con la testa che arrivava a quest'altezza è scomparso e vinto cosa che posso provare a fare anch'io ma non vorrei avere danni collaterali nel fisico grazie 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 grazie